Conferenza stampa questa mattina a Villa Devoto a Cagliari per la presentazione delle Sardinam Job Day 2019, l'evento promosso dalla Regione organizzato dall'ASPAL che si trarà il 24 e 25 gennaio alla Fiera di Cagliari. All'incontro il Presidente della Regione Francesco Pigliaro, l'Assessore Regione del Lavoro Virginia Mura e il Direttore Generale dell'ASPAL Massimo Temussi. Le persone che stanno cercando lavoro, che guardano con fiducia a questa giornata perché possono incontrare le imprese, le imprese che verranno a offrire i posti di lavoro che loro stanno cercando e quindi i numeri stanno crescendo. Stanno crescendo anche i seminari perché bisogna ricordare che il Job Day non è solo il luogo nel quale si cerca lavoro, cosa importante, ma anche nel quale si impara come cercare lavoro e questo vuol dire che sono giornate molto intense. Direi che quest'anno in particolare sarà molto più preciso che negli anni scorso l'incrocio tra domande e offerta, quindi chi sta cercando lavoro avrà più probabilità negli anni scorsi di trovare esattamente l'impresa che sta cercando quelle caratteristiche. Quindi io spero che ci siano dei buoni risultati. Ripeto che però sono anche i giorni nei quali chi non sa come cercare lavoro avrà molto molto aiuto perché anche se questa volta non andrà bene, la prossima volta possa andare meglio. È la quinta edizione del Sardinian Job Day e diciamo che stiamo molto meglio rispetto a quando siamo partiti. Ci sono molte iniziative dedicate ai nostri giovani e ai disoccupati in particolare. Quindi è un'occasione non solo per favorire l'incontro della domanda con l'offerta del lavoro, ma anche per far conoscere quella che è l'evoluzione costante del mercato del lavoro.